Il derby dello stretto tra Messina e Regina non sarà ricordato per la gara in sé per sé, ma per gli atti di vandalismo che si sarebbero consumati durante e al termine della partita. A denunciare l'accaduto, l'allenatore della Regina, che sul suo profilo Facebook ha scritto «picchiati impunemente nello spogliatoio, picchiati impunemente in campo, pullman dato alle fiamme, con 35 persone a bordo. Abbiamo perso, sì, ma un gioco che non può essere chiamato calcio. Così l'amaro sfogo di Karel Zeman, figlio del più celebre Zenec. Ieri le due squadre di Lega Pro si sono affrontate sul campo siciliano. A spuntarla è stato il Messina, 2-0 il risultato finale, eppure nonostante la netta sconfitta la squadra calabrese sarebbe stata presa di mira dalla tifoseria opposta. Il tecnico parla di aggressioni alle quali ha fatto seguito l'incendio del pullman della squadra, che si trovava in tangenziale prima del reimbarco per la Calabria. Sul veicolo non si sono registrati feriti, ma solo tanto spavento. I primi rilievi escluderebbero il dolo. Sul grave episodio la CR Messina, con un comunicato ufficiale, esclude qualsiasi coinvolgimento su quanto paventato da un sito sportivo regino. La CR Messina manifesta altresì piena solidarietà a presidente, calciatori, staff tecnico e dirigenziale della Regina per l'incidente occorso, conclude dopo la partenza dallo stadio Franco Scoglio e diretti ai traghetti. Saranno comunque le indagini a chiarire gli aspetti di questa vicenda poco piacevole. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24.